Buonasera o buon pomeriggio, non so quando vedrete questa simpatica cosa. Questo è un video di introduzione a dei fantastici podcast di gioco di ruolo di Populon. E quindi noi chi siamo? Tu sei Dario. Esatto, io sono Dario e te sei Mattia e siamo autori di questo gioco. Fantastico gioco fantasy. Quindi ti vado subito a chiedere ma che cos'è Populon? Eh, Populon è uno dei più bei giochi di ruolo fantasy mai inventati dagli esseri umani, dai Drakans. Se ci sono degli alieni che hanno inventato dei giochi di ruolo poi non lo sappiamo ma... Potrebbero offendersi, chi se ne frega. Chi se ne frega. Quindi è meglio anche di Dungeons & Dragons? Direi, direi proprio di sì. Sicuramente è un gioco molto italiano, come direbbe Stanis e l'Aeroshead. Forse troppo. Molto, molto italiano. Forse troppo. Ma nel senso buono, parliamoci chiaro. Ma e quindi cosa c'ha di speciale, cioè che lo rende così incredibile? Beh, secondo me ha di speciale che abbiamo lavorato moltissimo all'ambientazione e a dare un senso di uniformità al mondo e molta concretezza perché abbiamo pensato in grande. C'è una cosmogonia innanzitutto. Il modo in cui il mondo è nato, il perché è nato in un certo modo e anche tutta l'ecologia delle vite al suo interno. È un'ecologia che denominerei spirituale. Non credi Dario? Sì, sì, è un mondo molto magico in cui è un mondo che egli stesso è una creatura vivente con un'anima che è collegata alle anime di quasi tutti, coloro che lo abitano quasi perché poi ci sono ovviamente sempre le eccezioni che servono a rendere ancora più interessante il mondo. E questi quasi tutti sono ben sedici razze giocabili che ci sono in manuale base e che sono messe dentro un'ambientazione, come dicevi te, studiata, coerente, che non è un po' di roba buttata lì, ma ogni cosa ha il suo posto, diciamo. Un'ambientazione molto colorata e molto magica. Esatto. Molto magica? Perché ci è piaciuto fare un mondo magico? Sempre secondo me per la coerenza che hanno le razze e il mondo stesso, questo modo di diffondersi che ha ogni vita, ogni essere, ogni individuo di Populon fa parte del mondo stesso e il suo spirito è collegato direttamente al drago. Il drago è l'anima del mondo di Populon. Ci sono un sacco di draghi in questo mondo, ma spesso più che fisicamente, ci sono anche fisicamente, però ci sono proprio in spirito, diciamo, come un concetto che rappresenta un po' il tutto, ecco, rappresenta un po' l'essenza del mondo. Sì, perché quello che abbiamo fatto con Populon è dare una nostra interpretazione della vita, cioè di quelle che sono i passaggi della vita, proprio i momenti. Quindi dalla nascita, la giovinezza, la maturità, la vecchiaia e la morte che ridà via al ciclo della vita. Esatto, esatto. Sì, un'ambientazione molto bella, ma il giocatore di ruolo si direbbe sì, ma il sistema è? Il sistema è un sistema molto italiano. Non abbiamo soltanto la facoltà di fare un successo o un fallimento pieni. Ma ogni numero del nostro dato a sei facce ci racconta come l'azione che abbiamo intrapreso si è verificata. In che senso? Dall'1, l'1 che è il fallimento critico, al 6 che è un successo migliorato. Quindi i primi tre numeri saranno dei fallimenti, ma fallimenti differenti. L'1 e il 3, per esempio, hanno grandi differenze. Con l'1 fallisci e ti fai un danno, che può essere un danno fisico, un danno di altro tipo, a seconda di quello che poi il narratore ti racconta. Il 3 è un mezzo fallimento, significa che tu non hai raggiunto lo scopo che ti eri prefissato, ma ti sei avvicinato, vero? Esatto. Diciamo che di base se tu fai 3 nel voler scalare un muro di 10 metri, per me se forse fisicamente l'è impossibile, però ci sono anche creature alte quasi 3 metri su Populon, per cui no. Un muro di 10 metri in un turno solo, se fai 3 ne hai fatti 4 metti. Esatto. Sei riuscito a completare l'azione, ma ti sei avvicinato e magari ti sei avvicinato le mani. Ma che effetti ha questa cosa sulla narrazione, Dario? Su poi quello che viene fatto all'interno del gioco? Di dare un sacco di sfumature al gioco. Cioè, di colorarlo, cioè quasi proprio come se ogni tiro di dado ci avesse la sua sfumatura. Lascia stare, io sono daltonio e quindi non le vedo, però ci sono. Esatto. E quindi le rende più interessanti. È un sistema che proprio fra l'altro volutamente, ora non ve lo stiamo a spiegare in tutte le sue sfaccettature, è molto breve, però non vogliamo appesantire troppo il video, però volutamente tende a stringere i risultati verso i risultati centrali di un dado. Cioè verso i 3 e i 4. Perché? Perché sono quelli più interessanti. Cioè sono quelli in cui sei in bilico, ok? Esatto. E in bilio solo tu non sai ancora come ti andrà l'azione. Esatto. Infatti si verificano molte situazioni di suspense, ovviamente. Cioè di momenti non decisi appieno, ma che ci fanno divertire un bel po'. Diciamo che il nostro obiettivo era un po' l'Indiana Jones appeso alla fune del ponte, il crollato, con altre sette persone appese alle caviglie che hanno tradito Shiva. Esatto. E si può anche morire, no? In questo gioco, non è un gioco... Un po' come in quasi tutti i giochi di ruolo, sì, si può anche morire. Beh, non è così difficile intendo dire. No, ah no, 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 certo. Soprattutto all'inizio, come si vedrà anche, credo, nelle avventure che andremo a giocare, visto che i nostri personaggi saranno appena, come dire, non appena nati, ma in un'età ancora molto giovane, bisogna stare anche un po' attenti a quello che si fa, perché ci sono molti modi di morire. Però, appunto, perché stiamo facendo questo video? Magari ora la gente ha anche iniziato a chiedersi. Stiamo facendo questo video per presentare il podcast ufficiale di Populon, nel quale noi due autori giochiamo con il nostro gruppo storico. Per il quale, tra l'altro, diciamocelo, Populon è stato anche pensato, no? Esatto. Comunque abbiamo pensato, certo, a tutto il pubblico, ma soprattutto a sviluppare il nostro modo di intendere il gioco di ruolo e di giocare. E quindi faremo questa serie di podcast, nel quale svilupperemo un'avventura ambientata a Sacresta, che è una città di mare del sud, lo scrigno del mare viene chiamato. E questo ci servirà poi in seguito per presentare il prossimo modulo di avventura, che sarà inserito nel bestiario, nella prima parte del bestiario che andremo a pubblicare, dedicato al primo drago, al drago dell'acqua, che è Mjornning. Esatto, esatto. Senti, perché Dario siamo su Fumble con il nostro podcast? Perché gentilmente ci ospita, quindi fra l'altro li ringraziamo dal profondo del cuore, ma anche dal profondo del pancreas, direi, dal profondo dello stomaco soprattutto, che è un organo che apprezziamo molto. Molto usato. Molto usato, sì. E perché, fra l'altro io, Dario, sono una delle voci che forse vi ricorderete di me per il podcast, quali, come dice Troy McGlure, no, sono una dei giolatori e delle voci di Epoca, il podcast, che è già uno dei figliocci di Fumble, ok? Come si chiama il tuo personaggio, Dario? In quale, in Popolo, un podcast? In Epoca, sì. Ah, in Epoca, in Epoca, adesso siamo un po' fermi per, sai, questo spiacevole... No, ma dimmi solo come si chiama. In questo momento, oddio, mi ricordo più, si chiama Nix, scritto N-I-X. E stiamo giocando a Symbaurum, adesso. Cioè, staremmo giocando, se Nargol non avesse scatenato un incantesimo di malattia su tutto il mondo, a Symbaurum, Symbaurum, Symbaurum. Poi qualcuno mi spiegherà come si pronuncia. Symbarum. 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 Ma è invece come si chiamano, questo io lo chiedo a te, cioè, come si chiama questa avventura, come si chiamano, perché si chiama così, e come si chiama i personaggi, cioè, chi andiamo, facciamo un po' di preview, ecco. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa simpatica, che Dario sta giocando, io sto facendo il narratore, che Dario sta giocando è una cosa che non sa dove andrà a parare, e quindi mi sto un po' inventando quello che sarà anche il futuro di Sacresta, e che poi vedremo nel modulo di avventura, come dicevo, che sarà pubblicato con il bestiario. Si chiama l'avventura che stiamo facendo adesso, Il pezzo da otto. Caro il mio Dario, è un'avventura di carattere piratesco, no? Il pezzo da otto, si sa, è un pezzo d'argento che veniva utilizzato di un certo valore. Perché il pezzo da otto? Perché, come si sa, ogni passaggio, ogni passaggio da un posto all'altro, richiede un pedaggio. E questa avventura è basata proprio sui passaggi, da un luogo a un altro. passaggi non precisamente reali, ma magici. Quindi non si sta parlando di ponti o di navi fisiche, ma di passaggi immaginativi. Questo poi verrà spiegato. Infatti, una delle prime cose che si incontra, anche se in sogno, nell'avventura è presumibilmente un drago... Cioè, è morte, no? Il quinto drago che è il drago dei confini, è il drago delle soglie, dei passaggi, del mutamento. Perché è quello che chiude il ciclo della vita e in un certo senso lo ricomincia. Esatto. Esatto, ma quindi un po' di... Cioè, chi incontreremo in questa avventura? Io sono, lo dico io, sono una giovane nana dell'argento. I nostri personaggi hanno tutti più o meno 16-17 anni, sono degli adolescenti di razze diverse, che però si considerano fratelli, vivono insieme in questa locanda detta La Stiva, perché è realizzata con... cioè, diciamo, nell'unione tra un vecchio galeone e un edificio vero e proprio. E quindi io, tra questi, diciamo, gruppo di adolescenti che è adottato dal padrone di questa locanda, appunto sono Lua... Che è il grande troll Arambabur. Esatto, io sono Lua, la nana dell'argento. Chi sono gli altri personaggi, anche gli altri personaggi non giocanti? Beh, abbiamo innanzitutto i tuoi fratelli, tutti di razze diverse, perché come si diceva siete stati adottati da Arambabur, il troll, a capo di questa locanda, che in realtà, però, è una delle biblioteche più grandi dell'intero sud di Populon. Gli altri sono Emmet ed Elidar, due Accor molto colorati, sempre giovani come te, avete tutti i 16 anni. Poi c'è il cuoco della locanda, lo Zaund Strogos, esilarante come sempre. Poi abbiamo Sioban della Stiva, che è una tesserian, che si occupa di suonare, cantare e dare spettacolo all'interno della locanda. E poi, ci sei tu, cara Lua, una nana dell'argento, che ha appena compiuto i suoi 16 anni, proprio la scorsa notte, quando inizia l'avventura, e che sta sviluppando i suoi poteri. Non è così? Magici. Sì, le nane dell'argento, i nani appunto sono una delle reinterpretazioni di razze classiche, per cui noi abbiamo creato una razza di nani divisa in sei clan, ognuna associata a un metallo. Le nane dell'argento sono una sorellanza, appunto, sono tutte donne, legate al metallo dell'argento, che hanno grandi poteri divinatori, e insomma sono in connessione con la parte più mistica, ecco, del mondo, mettiamola così. E tutti questi appunto adottati dal grande troll, personaggio misterioso, che però loro considerano loro padre, Arambabur. E lo amano come un padre, ovviamente. E lo odiano. Succede che a un certo punto, però arriva un altro personaggio, un personaggio che sembra essere quantomeno destabilizzante per il padre Arambabur, che è una grande carica, un'importante carica dell'inquisizione della pentacatena, che è l'inquisizione dei draghi degli universali. e con lui una compagnia di creature molto impressionanti, delle quali, tra l'altro, ho anche fatto le illustrazioni, quindi una delle cose carine di questo podcast è che via via le illustrazioni dei personaggi verranno fatte vedere, verranno pubblicate insieme al podcast. Esatto. E niente, vi consigliamo caldamente di provare a vedere il tipo di gioco che è il nostro, che forse non starà proprio quello che siete abituati a vedere, perché noi tiriamo pochi dadi, ci raccontiamo molto quello che avviene, pensiamo che sia anche una cosa molto gradevole da poter sentire da poter sentire come sottofondo, perché raccontiamo delle storie e raccontiamo anche delle vicende, delle vicende che hanno un carattere piuttosto personale. Esatto. Cerchiamo di mettere anche un po' di quello che è il nostro vissuto all'interno della narrazione. Una narrazione intima, ecco. Diciamo che il nostro modo di gioco non cambia tanto dovendo purtroppo essere in, non in presenza, non fisicamente insieme, ma su su un computer, ecco. Praticamente è come se ci spiaste dal buco di una serratura, perché noi siamo sempre stati abituati a giocare fra di noi con modalità piuttosto intime, cioè tra amici, come succede spesso, anche spero, nei vostri gruppi. E penso possa essere un'esperienza divertente e anche catartica in certi momenti, no Dario? Sì, esatto, è proprio la scelta di rappresentare un gruppo di giovani, molto giovani, che vedrete, spesso e volentieri devono proprio, come dire, appunto, un po' rispetto a differenza di quanto magari un abituato non possono, perché non possono prendere le situazioni di petto, perché si trovano gente di fronte molto più forte di loro e quindi devono interpretare il fatto di essere, di avere sì la spavalderia di un sedicenne, ma anche la paura di un sedicenne. La paura di un sedicenne, esatto, e quindi quando, per esempio, si trovano di fronte il segugio Luraluk Norseberg, una creatura animalesca che diciamo, gli si presenta di fronte in una maniera abbastanza particolare, con Chato in una maniera abbastanza particolare, a un certo punto devono fare un passo indietro. Esatto. questo, diciamo, secondo me rende una dimensione molto realistica, molto umana a tutta la storia. Un'altra delle cose interessanti e l'idea che abbiamo avuto è proprio questa di raccontare una parte dell'ambientazione, la parte di Sacresta, che poi, come si diceva, verrà trasformata in un modulo d'avventura, ma la vogliamo presentare per farla conoscere a chi poi magari giocherà con questa avventura, perché sicuramente l'effetto sarà di un, sarà come ritrovare dei personaggi, delle situazioni, dei luoghi che già si sono assaporati in qualche modo. Esatto, perché diciamo, noi... Pensiamo che questo possa essere un punto di forza sia nel podcast che poi nell'avventura che potrete giocare voi stessi. Qual è il discorso che appunto noi stiamo ormai da diverso tempo lavorando a un bestiario che però oltre alle schede dei mostri conterrà un'avventura in cui vi troverete a dover affrontare, cioè a cui i giocatori si troveranno a dover affrontare almeno alcuni dei mostri che poi sono presentati nel bestiario e l'avventura che stiamo giocando, questa del pezzo da otto, è un prequel dell'avventura che troverete nel manuale, nel bestiario. Esatto. Quindi diciamo un instradamento, un'anticipazione che appunto della speranza è quella che vi faccia un po' l'effetto, no? Come di leggere il secondo volume di una trilogia e vi ritrovate con... Per sentirsi ancora... il piacere i personaggi che avete conosciuto in quella prima. Esatto, nel primo volume. Per sentirsi parte di una narrazione più grande che poi è l'idea che ci piace su Poplon, cioè che ci siano molti gruppi di persone che contemporaneamente giochino in diverse parti del mondo. Esatto. Va bene, direi che abbiamo parlato abbastanza, abbiamo annoiato, no, spero di no, abbastanza ai nostri ascoltatori, quindi ci vediamo presto su fanballgdr.it con il pezzo da otto, un podcast di Poplon. A presto. Ciao ragazzi, grazie, ragazze, grazie mille, ci vediamo presto. Ciao, ciao. Mi sa che ci saranno dei ciclopi, stavo, invece dei cicloni. sono talmente fantasy e cambio parole di uso comune con parole fantasy.